Si chiude un percorso importante e speriamo che sia l'inizio di un ulteriore percorso. Questo è un impegno che le associazioni hanno portato avanti con grande forza fin dall'inizio perché era un luogo simbolo della città. Volevamo iniziare da questo punto per poi fare altri interventi. Qui siamo orientati in chiesa, ci sono anche una serie di opere fatte lungo i percorsi che ci consegneranno dai parcheggi di arrivare in tutte le posizioni, il sagrato è stato sistemato, quindi ci piace insomma. Speriamo che sia ad auspicio perché la città collabori e si metta nel modo altri iniziari di questo genere.